Stai cercando una moto super sportiva giapponese di assoluto livello? Beh, se la risposta è sì, allora io ti presento la Yamaha R1 2018 un'icona senza tempo pronta a farti vivere un'esperienza unica Con il suo design audace e aggressivo è capace di catturare lo sguardo di tutte coloro che le incontrano sulla strada Le sue linee fluide e affusolate, ispirate al mondo delle competizioni, raccontano una storia di prestazioni e velocità Ma non lasciarti ingannare dal sospetto, quando monti su questo capolavoro ingegneristico ti renderai subito conto della potenza della sua anima I 200 cavalli ti catapultano in avanti, mentre il suono dello scarico ti farà battere il cuore all'unisono con il motore Bene, siamo pronti ad offrirti questa e molte delle altre nostre moto Insieme a un pacchetto promozionale premium valido fino al 8 di agosto Comprensivo di gomme d'alloc, pastiglie e brembo, doppio tagliando gratuito e 52 controlli certificati dai nostri meccanici In più, opzioni prova, 3 mesi o 2000 km Detto questo, cliccate il link qui sotto per scoprire e avere maggiori informazioni Moto Argento, amore e passione, dedizione, sempre, io vi lascio Ciao!